Era due anni che non si ripresentava questa serata, l'abbiamo voluta riproporre. Riteniamo che in questo momento sia una vetrina importante per i nostri prodotti del territorio, con i vini, Lugana, Merlot, Cabernet, il salame, lo zafferano e quant'altro riusciamo a produrre in questa zona. È una serata, grazie a Dio, questa sera che il tempo ci sta aiutando. Ci aspettiamo numerose persone e sicuramente la riproporremo nel 2016, probabilmente, e questo magari è un mezzo scoop, con un percorso un attimino diverso. Vorremmo incentrarci un attimino anche sulle parti che non vengono mai toccate del paese. L'Expo è stato sicuramente, lo è e lo sarà anche dopo il suo termine, un volano per il turismo importantissimo. Noi riteniamo, il fatto che sia stato fatto a Milano, quindi in Lombardia, di poter avere e attrarre nuovi turisti sul nostro territorio. Crediamo che il vero turismo sostenibile, noi fondamentalmente siamo alle spalle del Lago di Garda, dove c'è un turismo che è un po' massificato, riteniamo che la nostra zona riesca a essere foriera per un turismo ecosostenibile. Questo ce lo aspichiamo e stiamo lavorando in questo senso. Grazie a tutti.